Ci sembrava giusto oggi che compiamo appunto 20 anni di servizio a Bagheria rappresentarci con un monumento che appunto dimostri quello che è il servizio del Rotary in questa cittadina. Ecco perché abbiamo chiesto all'architetto Cettina Castelli di disegnare, progettare questa stele e siamo felici di questo. Cosa rappresenta il monumento? Il monumento intanto rappresenta la ruota del Rotary e il nostro simbolo, la torre di Palazzo Butera che è appunto quella che contraddistingue il club di Bagheria. La scelta del luogo non è casuale, volevamo che questa stele fosse posta in centro e ci è sembrato opportuno metterla qua dove tra l'altro ci sono le scolaresche e quindi hanno possibilità di conoscere ancora meglio quella che è l'attività del Rotary che comunque nelle scuole ha molta presenza. E poi ci piace appunto pensare che facendo qualche piccola cosa si possono fare molte cose come appunto disse padre Puglisi, ecco impreziosire una piccola parte di Bagheria può essere anche volano per impreziosire tante altre parti di Bagheria che sicuramente ne hanno bisogno. Intanto il club si è mobilitato in modo forte per celebrare nel modo migliore questa ricorrenza che vogliamo appunto dare, presentare alla città in modo solenne. Per quanto riguarda le finalità del Rotary, il Rotary è un club di servizio che opera nel territorio per il miglioramento della comunità. La frase che è scritta qui, vent'anni al servizio della comunità bagherese è proprio il senso della nostra presenza a Bagheria così come in tutto il mondo.